Pasta al volo oggi per il mio marito, va di corsa, l'hanno chiamato per un'ispezione urgente. Ho messo a freddo un etto e mezzo di pennette, il sughetto bio dell'azienda agricola Giulio Caminito, olio e aglio. Adesso sto aspettando l'uscita del vapore, ho messo un bicchiere e mezzo di acqua, ovviamente essendo un etto e mezzo di pasta, e all'uscita del vapore, adesso l'ho tenuta a fiamma alta, l'abbasserò al minimo per il tempo di cottura delle pennette. Ecco, sto uscendo il vapore, abbasso al minimo, qui, per il tempo di cottura della pasta. 9 minuti, metto anche un pochino di sale, metto sempre quello grosso, un pochino di sale, do una bella mescolata delle mie pennette, guardate che meraviglia, ho messo anche l'origano, e adesso abbasso, come vedete, piccolissima la fiamma, ve la faccio vedere ancora di più. Ecco, così, al minimo per 9 minuti. Sono passati 9 minuti, vado a controllare, spengo, ed ecco la mia pasta fatta in 12 minuti. sugo e basta, senza scolare, con l'amido che si è gelatinizzato intorno alla mia pasta, farà da gastroprotettore e non farà alzare la glicemia. Bellissima la mia pasta, con un po' di parmigiano, basilico, è prontissima e appetitosa.